Ognuno vede quello che vuole vedere. Giorni fa ho pubblicato una foto sui social di me imbottigliato nel traffico in autostrada. C'era anche una descrizione di questa foto con un bel messaggio positivo, cioè di non aspettarsi nulla dall'esterno perché effettivamente non è cambiato nulla in questi mesi, ma cercare di lavorare su se stessi, sulla gestione delle proprie emozioni, sul potenziamento di se stessi. Eppure, nonostante questa descrizione con un messaggio positivo, la maggior parte dei commenti vedevano in questa foto una mia polemica contro i camionisti, anche se c'erano delle macchine, delle auto oltre ai camion, una mia polemica contro il governo, nonostante il messaggio della mia descrizione dicesse altro, una mia polemica contro le restrizioni. Insomma, ognuno di noi vede quello che vuole vedere. Perché succede questo? Perché il nostro cervello non può percepire, assorbire, registrare tutto quello che avviene e proviene dal mondo esterno. Deve fare una scelta. Come fa questa scelta, questa selezione? La fa in base alla propria esperienza, alle proprie credenze, al proprio stato d'animo, come mi sento anche a livello fisico, in base a quello che dicono persone autorevoli, persone che contano per me. Quindi, quello che noi percepiamo è sempre una scelta. Certo, una scelta automatica, inconsapevole, ma è una scelta. Il problema è che quando vedi qualcosa, rispetto a quello che vedi, reagisci in un certo modo, in modo automatico, in poche frazioni di secondo. Se il modo in cui stai reagendo, come ti senti in questo periodo, non ti fa stare bene, non ti piace, allora puoi chiederti cosa non sto vedendo? Cosa potrei vedere di diverso? Cosa potrei vedere in modo più ampio che mi possa aiutare a sentirmi diversamente, sentirmi meglio in questo periodo?